Sì, è vero? Sì, sì. Allora, il primo ruolo è la mia opinione. Ovviamente non abbiamo giocato bene nella prima parte. Abbiamo iniziato anche così, ma nella seconda parte, in overtime, abbiamo trovato un'altra parte, come gruppo, e abbiamo trovato un modo di giocatore e insieme. Abbiamo bisogno di rimanere così, perché i giocatori saranno più difficili, ma per quanto riguarda il gioco siamo felici. Non abbiamo cominciato bene, come avete visto, nel primo tempo soprattutto abbiamo fatto un po' di fatica, poi nel secondo e nell'overtime la squadra si è unita, abbiamo giocato insieme, abbiamo trovato la via per giocare meglio, la partita non è stata facile per noi, però alla fine abbiamo trovato il modo di vincere. Luande? Perché è un po' di perdita nel primo tempo? Credo che non è un po' di perdita, ma è un po' di reazione, come quando siamo sotto, specialmente per una squadra che sappiamo che avremmo dovremmo vincere più punti, ma a volte questo succede, nel basketbolismo non sa mai cosa succederà, ma oggi abbiamo trovato un modo di vincere, un po' di gioco più importanti, un po' di gioco più importante, e un po' di perdita. Sicuramente non vera il proprio paura di perderla, ma questa situazione in cui si sono trovati sotto le ha dato motivazione per reagire, ed è stata una partita purtroppo più difficile di quello che si potevano aspettare, però nel campionato e nel basket non si sa mai, alla fine è positivo il fatto che sia trovato comunque la vittoria. Come faccio il tuo gioco ora? Io? Mi sono freddo, ma mi sento bene di vincere, mi sento meglio di vincere, mi sento meglio. Mi spiego molto, il tutto il gioco, ho cercato di fare i miei assaggiamenti difensivi, e ho scoperto un po' di gioco, quindi mi sento meglio di aver vincere il gioco. mi sento molto contento di aver vinto, molto stanco, e durante la partita ho cercato di giocare al 100%, provando a fare quello che mi era stato assegnato di fare dal punto di vista difensivo, e ovviamente anche segnando l'attacco. ti senti più un quattro, un cinque, un tre? Do you think to be more power forward, center? on this team, I kinda don't really have a position when it's on the offensive side of the basket. The defense, I'm gonna play the center football right now, but, you know, the way I play, I can play any position really, you know, it just depends on what coach wants to play. Per il momento non ho posizione definita, posso giocare entrambe le posizioni, al momento sto giocando offensivamente molto fronte al canestro, difensivamente marcando i cinque avversari, però non è un grosso problema, cerco di fare quello che mi chiede a Leal. Sei sulla strada di diventare il capo camioniere del girone? How do you want to be able to be the top player of this championship? Oh, honestly, if I am, it's great, you know, especially for our team, but that's not my, that's not my main focus, I'm just out there, just doing what I know how to do, I have the utmost confidence in myself to score the basketball, you know, a team is very easy, you know, coming off, you know, you know, it's not my priority, if this happens, I'm happy, especially for the team, but what is important is that it is useful to be able to score for my team and my colleagues make my life easier in this, serving me well and in the right position to score. to score. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.